buongiorno benvenuti a tutti sono Armando Pisani e sono insegnato di matematica e fisica in questa playlist in questa raccolta trovate tutte le lezioni del mio corso di matematica che ho ottenuto presso il liceo classico Dante Alighieri di Gorizia nell'anno scolastico 2014 e 15 le lezioni sono rivolte ai ragazzi del primo al quinto anno e riguardano un po tutti gli argomenti c'è l'algebra geometria analitica, trigonometria, analisi, un po di statistica, le registrazioni e le lezioni e soprattutto l'elaborazione del video è stata possibile grazie al lavoro sviluppato dal professore Enrique Canessa e dal suo gruppo presso l'SDU che significa Science Dissemination Unit del centro di fisica teorica di Trieste a Miramare quindi Enrique va il mio più sentito ringraziamento per il lavoro svolto all'epoca quando le lezioni furono svolte e registrate e per l'elaborazione attuale che è reso possibile che fossero disponibili e travasabili su YouTube. In caso di dubbi o domande potete sempre scrivermi all'indirizzo segnato nella descrizione e vi invito ovviamente a iscrivervi al canale grazie di tutto e dell'attenzione buona visione e buono studio arrivederci